Salve ragazzi, qui è Delta in Totte, siamo su Destiny 2, oggi facciamo qualche gameplay, vediamo un po' cosa dobbiamo fare e dobbiamo potenziare i personaggi, tanto ormai questo è lo scopo nostro. Abbiamo fatto qualche missione la volta scorsa, ricordate, abbiamo usato un'altra volta l'assassina, che poi io sono un cretino perché mi ha scordato l'azione principale che avevo impostato, Q per lanciare la generata e per usare un'altra abilità, e poi c'era il tasto centrale del mouse che era l'abilità della cassa, e poi la ulti, la finale, la mozza speciale, era C. Io proprio mi ho scordato di queste impostazioni perché riprendevo i tasti vecchi, perché poi ti abituano, anche se su scommetto ti abituano, infatti è un errore che faccio sempre. Sì, sì, tranquilli che ho ricontrollato i tasti, i tasti. Allora, vabbè, lei la dobbiamo ancora potenziare, lui l'abbiamo potenziato un pochettino, vedete che tra i livelli il più alto attualmente è lei, però dobbiamo usare un po' lei. Sì, perché voglio un costume particolare per lei, io odio questo costume qui. Apri la navigazione, per favore. Dobbiamo andare, ah, ancora qua, dobbiamo fare delle missioni. Ancora? Ancora delle missioni dobbiamo fare qua, madonna. Ma come mai? Non capisco, scusiate. Per quale motivo ancora devo fare? Ah, perché devo sbloccare il secondo livello per questo personaggio. Madonna che noia. Sì, perché le missioni, a quanto pare, sono state variate per le fazioni. Cioè, anche se ho fatto gli stessi percorsi iniziali, alla fin fine il gioco mi dice, no, tu devi fare queste missioni qua differenti, capito? Quindi ora devo fare per forza questo. Vabbè, facciamo sta modalità. Speriamo di trovare immediatamente degli... Oddio, si muove il movimento, ma ora ho notato. Ma che figata, si muove... figo. Comunque, dobbiamo aspettare guardiani, perché dobbiamo fare ancora la conquista a base. Speravo di no, all'esterno. Speriamo che si faccia subito, però. Eh eh. Sono diventato noioso l'altezza, subito. Speriamo. Ma che finalmente mi sto adattando. Voglazione guardiani, ho capito. Però. Sto ancora 1 su 12. Dai, sembra che sta cercando un tot di numero, però non si carica. Ah, 11, basta fa. Quindi ci manca 1. Ecco perché non mi piace queste partite. Perché ci mette... No, ma dai. Perché ci mette tempo a cercare a Genesi scoccia. Quindi se ne fa subito, pensando di risolvere subito il problema. No, così peggiorate le cose, raga. Dovete stare fermi e aspettare. Che vi costa aspettare? Oh, perché non mi sembra che vi pagano per... che non vi pagano se non aspettate. Eh, in realtà, ho detto anche da questo non so. Eh, non pagano né per andarsene né per aspettare per lo dettaglio. Sì, però, se siamo in dodgi, rimaniamo in dodgi, raga, in pratica giochiamo. Abbiamo questa difficoltà di trovare giocatori nelle partite multiplayer, si stanno in tutti i giochi, tranne in Battlefront 2, in Fall Guys e ancora tuttora a Battlefront 2 ancora troviamo gente a raffica, tranne in molte modalità, non in tutte però, forse in alcune modalità non in tutte, vabbè, pazienza. E poi abbiamo Destiny 2, abbiamo Resident Evil Resistance, che comunque per fare una cacchia di partita online ci impiega un po' di tempo. E perdiamo molto tempo di attesa. Comunque ho caricato molti dei video interessanti. Comunque, mo' questo è un periodo di pausa, eh, raga? Mo' posso dire che è un periodo di pausa e forse caricherò qualche video in più al giorno, però voglio mantenere i tre al giorno. Sì, perché quattro video a volte succede o per un'aggiunta extra o per qualche... diciamo perché c'è stato un esclusivo, c'è stato qualcosa che dovevo caricare proprio in quel giorno o il giorno dopo. Beh, i veicoli. Solo il mio fa schifo. Tutti quanti hanno delle belle macchine. Ah, però sono belline, effettivamente. Io lo concedo. Che è successo? No, no, ho aspettato tutto sto tempo, ragazze, è partita? No, eh, no, devo guardar... Che ti doi? No, raga, ma cosa? Ah, io ho sbloccato le cose. Che ne so? Oh, finalmente! Oh, finalmente! Oh, finalmente! Oh, facciamo così qua, andiamo qua! Abbiamo sbloccato delle missioni! Ah, interesting! Ah, ora... ora è meglio! E quindi delle missioni non le avevo sbloccate. Ecco che eravamo rimasti ancora in questo punto. Io dicevo, come è possibile? Però lo facciamo lo stesso. Però con Capria vediamo di sbloccare un po' di cose. Comunque è vero, ce ne vuole per fare delle partite qua, eh? Mamma mia! Purtroppo è così. Anche se i giochi sono fatti bene, sono belli. Basta che sono diventi un po' vecchiotto, o comunque hanno una dinamica un po' ripetitiva, o comunque sono specialmente online, muore. Il gioco purtroppo muore. Ecco che dico sempre il single play è la cosa migliore in certi casi. Sì, perché il qui presente Destiny 2 mi muore dopo, fino a un certo punto non regge più. Bello. Capisco. Sono al tuo servizio. Uh, grazie. Una soldatessa preparata è una soldatessa scatenata. Che ti sia di utilità. Sì, è audace. Sì, e ho preso questo. Poi... Che cos'è il coso del recolo? Vedete perché io ho cambiato... Sono tutto antenne. Affare fatto. Vorrei che con noi non si scherza. Eh, io devo controllare a sto punto, raga, i tasti... C'è gli altri... Gli altri a sto punto. Sto sbloccando cose, raga. Intanto il mio personaggio femminile è carino questa, eh. Vabbè. Dai, l'altro sto qua. Oddio, là sopra. Eh, quella la conosco perché l'avevamo vista nella... è un po' di destini, è il primo... Salve. Ah, oddio, non li posso sbloccare. Peccato, peccato. Vabbè. Vabbè, fanno pure cagare. A presto. Mi dà fastidio che me lo metta a fuoco. Avvivazione. Vabbè. Vabbè. La possibilità di avvistare qualche orso da queste parti è molto bassa. Sì, è che sta, guarda, apri una ragazza. Quindi andiamo qui. Ma mi costringe e dice di fare qua. Dai, un tuo tentativo. Eh, però avete visto che figata, eh. Perché devo salire di livello, perché devo sbloccare quell'altra cosa per forza. Per andare avanti. Perché comunque delle missioni devi farle obbligatorie. Vabbè, come funziona qua. Il gioco comunque si basa su questo, devi fare un percorso lineare. Sì, però non mi per favore crashare la connessione. Eh, grazie. Anzi, il caricamento è stato abbastanza veloce, quindi muoviamoci. Poi io sono già audace a livello 2. Perché? Vabbè, continuiamo. Magari perché la devo vincere. Secondo me perché la devo vincere. Vabbè, oddio, bellissimi i veicoli, bellini. Vedete com'è bello che vedi tanti bei veicoli, però... Javin 4, vi prego, Javin 4, raga. Che cos'è? Scusate, è una versione alternativa di dire Javin 4. Ah, io sono l'ultimo in fondo. Sì, mi riconosco subito qui, sono io. Ammiro il tuo spirito combattivo, ma sai difendere un territorio? Il nemico ha ottenuto la zona A. La zona C è conquistata. Ok, ma vediamo il terreno. Bel colpo. Sono cretino, ma quelle 65 di danno, di potenza, un po' di ansia. Maronna che cannonata brutta, madonna come mi ha sturpiato male, ma sfondato, ma proprio malissimo. Zona B conquistata, zona di vantaggio conquistata. Maronna, le sto spandato. No, ma frega di lato. Dai. Peccato, ma non è facile. Prima posizione. Chi? Noi. Wow. Mi nasce persano. Zona A persa, la zona C è conquistata. Zona di vantaggio conquistata. Grazie. Ragazzi, io mi scordo pure che io manco automaticamente. Io, involontariamente, prendo i stessi tasti lecchi, perché mi devo riabituare. Zona A conquistata. Dominio totale. Continuate così, continua così e la vittoria sarà tua. Ehm, nè. Mai mettere in prima per troppo, mai zoomare quando il tuo avversario fai il corpo a corpo. Mai. E poi io l'attacco a corpo e soppertino io. Ok. Maro, cosa ho fatto? Noi, all'anno. Aia, dolore. Buongiorno. Noi, ragazzi, immaginate perché io non mi ricordo l'attacco speciale come era. Ah no, è C, ok, ok, ma non mi ricordo. Si, perché io devo ricordare i tasti. No No, come and close the cord 5 minuti rimasti. Ottimo inizio. Continua così. Si, si. Zona Cisperata. Scusate. Madonna, ciò che aveva salotto. Zona B conquistata. La zona di vantaggio è vostra. Scusate. Sì, che sto distratto. Scusate, raga. Sì, che sto distratto. Scusate, raga. C'è una giocata. Avete il dominio totale. Ora mantenetelo. Zona A persa. Sì. 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 scusami e che sto cercando di capire ah ecco come era la mossa ma dai ho sbagliato ecco perchè non capio qual era madonna come è molto male si però io sono molto male ho sprecato lo special perchè io mi confondo perchè uno dice ma anche tu fai la stessa cosa 3 minuti continua così e la battaglia sarà tua beh l'abbiamo vinto però eh questo posso dire che sto contendo per questo l'abbiamo vinto la strategia è la chiave per la vittoria abbiamo vinto oddio equipaggiamento solo armi che palle è un casco avrei sperato qualcosa in più però ok possono anche uscire dai è stata una bella giocata però si mamma si arrivo bene raga come ho detto è stata una bella giocata ancora ma no vabbè facciamo così andiamo qui personalizziamo tutto il personaggio ho detto personalizziamo oh madonna non riesco più a fare nulla ah questo è per invitare gli amici no non è nemmeno in testo però eh eccolo eh però c'è stato tutto vabbè raga io qua vi saluto anzi in realtà dovrei vedere l'equipaggiamento madonna bellissimo perfetto dai raga io qua vi saluto qui del 38 al prossimo video passo e chiudo qui 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 Grazie a tutti.